I contenuti di questo materiale di attivo sono offerti da terze parti e non da TICMIL e danno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento, chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione assumendosene tutti i rischi, di conseguenza gli autori da TICMIL non si assumono nessuna responsabilità per le eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni indiretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di TICMIL a meno che non sia stato specificato. Pertenza sul rischio e i CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. L'81% e l'83% dei conti dei clienti al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD rispettivamente con TICMIL UK e LTD e TICMIL Euro e LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, è l'ultimo webinar del mese di gennaio presentato come sempre da me, Giuseppe Ciricola, country manager Italia di TICMIL. TICMIL è un broker non di l'indesco, quindi significa che tutte le posizioni dei clienti vengono inviate, i credit provider, con regolamentazione FCA UK, fondi quindi segregati, separati dalla società e assicurati fino a 50.000 sterline. La città di esecuzione ultrarapida, 0,1 secondo di media, garantita da oltre 10 server. Non ci sono recolti, non ci sono limitazioni sulle strategie, quindi potete utilizzare qualsiasi tipo di strategia. E gli spread partono da zero, con commissione tra le più basse del mercato, non ci sono costi su depositi e prelievi. Questa è la mappa dei nostri server, quelli più importanti in Virginia, Londra e Tokyo, poi quelli di backup. Potete valutare, come sempre, gli spread e le commissioni in maniera molto trasparente attraverso il sito di MyFxbook, dove appunto vengono preparati gli spread dei vari broker, quindi poi potete analizzare le varie offerte. TICMIL tra l'altro è stata premiata come miglior broker per esecuzione. Allora, questa serie io la dividerei in due parti. Allora, la prima, vediamo un po' le entrate che ci sono state la precedente settimana con l'indicatore, con la strategia dei retail più appunto l'expert, che immagino molti di voi stiano usando comunque, comunque, almeno credo stiano già facendo un po' di pratica con questo tipo di expert, quindi andiamo a vedere un po' che tipo di segnali ci sono stati, vediamo un po' quindi com'è andato, ci sarà un po' per fare analisi, e ovviamente se ci sono delle, magari già situazioni, le valutiamo. Allora, quindi, poi nella seconda parte vi parlo un attimo di un altro studio che sto portando avanti, che l'ho chiamato Cicli dei piccoli speculatori. Voglio un po' cambiare il nome retail perché mi sono un po' brutto, quindi lo cambiamo in piccoli speculatori e poi vi spiego bene che cos'è. Quindi adesso metto da parte le slide e avete tutti ovviamente l'indicatore, sapete già tutti dove scaricarlo, perché vedo comunque che ci sono parecchi iscritti della chat, chat di Telegram che mi invito a seguire. Vi giro comunque per chi ancora non avesse avuto modo di entrare in chat il link. Allora, come si fa? Così. Ok, vi ho girato il link della chat di Telegram. Allora, adesso quindi andiamo a vedere un po' il grafico. Quindi l'expert è questo qui. Ok, mi apro anche il file Excel che stavo un po' aggiornando le varie situazioni nei precedenti giorni. Quindi andiamo a vedere un po'. Partiamo allora dalla... Facciamo un po' una... Vediamo un po' come sono andate i vari setup. Li ho divisi per tecniche, quindi la tecnica dell'eccesso, che come abbiamo visto nel precedente webinar, parte da situazioni estreme. Quindi andremo a vedere un po' usd.chf che cosa sta facendo. E poi vedremo un po' di tecniche di primo incrocio. Vi dico già che comunque in questi giorni sono entrate quasi tutti i segnali di tecnica di primo incrocio. E parte sono andate in stop, come vedete. Allora io praticamente ho diviso questa tabella, è abbastanza intuitiva. Quelle in stop hanno comunque una casella rossa. Quelle in verde sono state chiuse. E quelle in gialle sono ancora in corso. E poi quelle in grigio chiuse a pari. Non ho ancora avuto tempo di aggiornare quelle di oggi del 28, quindi magari poi lo facciamo insieme. E quello che subito salta all'occhio è che comunque questo tipo di strategia va a prendersi comunque i suoi stop, perché quelli sono inevitabili, però se si lasciano correre un po' i profitti, si riesce a recuperare e avere anche un equity abbastanza, diciamo comunque, in guadagno. Il grosso l'ha fatto la sterlina sostanzialmente, perché c'è stato dal 23 gennaio, comunque ci sono stati dei segnali. Non so quanti di voi l'abbiano colto questo segnale sul retail, adesso lo andiamo a vedere. Quindi andiamo a vedere sempre sul conto. Allora, la sterlina, questi un buy del 23 e del 24. Molto semplice anche da analizzare, perché è tutto molto oggettivo. Qui c'è stato un incrocio, vedete, sulla sterlina intorno al 22. Un incrocio che non era lavorabile, perché comunque durante i orari notturni non c'era, magari comunque non stavate davanti al monitor, io non c'ero davanti al monitor, quindi di notte. E diciamo che il segnale era, questo segnale qui, molto bello, che c'è stato, vorrei ingrandisco. In questa zona qui, verso l'apertura di Londra. Quindi queste tipi di entrate vengono fatte direttamente dall'expert, quindi vi faccio vedere adesso dopo se c'è un'opportunità, come si attiva l'expert, anche se dovrebbe comunque essere chiaro, visto che ne abbiamo parlato nel precedente webinar. Quindi sono entrate, è entrata una operazione qui, vedete dove ci sono le frecce blu, alcune sono state chiuse in pari, comunque quello che conta è che quella delle... Ecco, 10.31, siccome TIC1000 è un'ora avanti, quindi alle 9.31, è stata chiusa sostanzialmente in un'area di accesso, qui, per il momento sembra molto, cioè comunque è migliorativa rispetto al prezzo dove è adesso, e un'altra entrata è stata fatta in quest'area. Allora, io la strategia che ho spiegato l'altra volta prevede che entro con due contratti alla volta, in questo caso sono mini lotti da 0.10, e quindi quando poi una delle due, o entrambe comunque vanno in profitto, una la vado a proteggere con stop a pari e l'altra poi magari la chiudo. Il punto forse è un po' comunque discrezionale di tutta questa storia, perché poi il resto è abbastanza comunque automatico e oggettivo, perché ripeto, si aspetta l'incrocio delle posizioni, quindi in questo caso i retail, i piccoli speculatori, sono passati al ribasso, come vedete da questa linea rossa, vedete, quindi qui c'è stato il primo incrocio. Si aspetta che comunque arrivino in una, diciamo, un distacco da queste due linee di almeno il 60%, quindi qui avevamo già più o meno un 60% di trader al ribasso. Questa linea verde è di chi è al rialzo, e quindi l'expert poi è stato impostato con setup soltanto by. Quindi qui poi cliccando, vedete, sull'expert scegliete quante entrate fare, quindi due, in questo caso due entrate, poi si dà la direzione e si dice vuoi entrare prima long e lui entra long. Adesso non entra perché, vedete, questo teschio giallo comunque significa che non c'è il filtro orario, perché io ho messo comunque dei filtri orari, vedete, fino alle ore 20, quindi dopodiché non mi entra più, e quindi non ho più effettuato poi, dopo l'evento non vado ad effettuare delle entrate. Quindi molto semplice, si imposta questo tipo di setup, poi fa tutto l'expert, non bisogna stare davanti al PC aspettando il setup. Quello che bisogna comunque fare, ed è estremamente, diciamo, importante, ovviamente uno è comunque non andare a chiudere subito, perché altrimenti poi viene meno tutto, e aspettare poi delle situazioni estreme e per andare a prendere profitto. Allora, io vi dico, adesso ho tolto qui oggi la sterlina, perché uno volevo un po' recuperare le perdite che c'erano state sui precedenti segnali, e un altro perché comunque eravamo arrivati intorno aria dell'85% short, che quindi per me già inizia un po' a puzzare come situazione, e quindi non vado a cercarmi sicuramente setup a rialzisti, però se ho una situazione così di accesso, e comunque prima anche poi delle notizie macroeconomiche, di quello che poi ci sarà tutto sulla Brexit, non mi vado a rischiare comunque di farmi tornare in faccia, non so voi come la pensiate, 300 euro, perché comunque mi dico, tra me e me, il mio l'ho fatto, perché sono stato bravo a portare questa posizione dal 60% fino a un 85%, è salita molto bene in due giorni, con oltre 260 pips, e quindi non vado a rischiarmela, prima della notizia macro, comunque di eventi importanti che si aspettano in questa settimana, e quindi si può uscire dal mercato, e quindi aspettare queste situazioni estreme, quindi quando se entrate in una situazione bene, molto come in questo caso, intorno al 60%, vedete che le posizioni arrivano all'80%, comunque valutate poi intorno all'80% delle gestioni in un trading stop, oppure delle uscite comunque totali dalla posizione. Ok, allora qui tolgo l'entrata, ancora domani poi mi entra. Ok. Quindi il primo incrocio vi è chiaro, no? Allora, vediamo un po' cosa dice Roberto. Allora, Roberto dice, io mi sto convincendo di un ragionamento, il prezzo non sale o scende per i posizionamenti dei reti, ma è il contrario, cioè se il prezzo sale, aumentano le posizioni short e viceversa, quindi poiché i reti sono perdenti, si capisce che non bisogna andare long subito quando il prezzo scende, ma aspettare e si dovrebbe capire quanto. Eh Roberto, quello è un po' quello che sto cercando di fare con questo tipo di strategia, quindi tu quando vedi il primo incrocio, come in questo caso, che vanno tutti short, allora, al di là del fatto che tu utilizzi questo export oppure no, se hai questo filtro di direzionalità dei retail e vedi che comunque sono al 60%, o mi sorge il dubbio che non ho attivato la registrazione, anzi no, è andata. Allora, se tu vedi che comunque c'è una direzionalità del 60%, non è pochissimo, perché significa che comunque stanno entrando short dei retail, adesso lo sappiamo tutti che non sono i retail a muovere il mercato, però ci può dare un'indicazione su quello che non bisogna fare, perché comunque statisticamente, e poi avete visto anche dalle statistiche del disclaimer, la maggior parte dei retail perde, e quindi fare il contrario sicuramente non è una scelta sbagliata. Ora però, e poi adesso ve lo faccio vedere dopo con le statistiche, non bisogna entrare ad occhi chiusi, come giustamente dici tu, ma cercare dei setup di ingresso, e una di queste può essere appunto delegare l'entrata a un expert, ma se tu hai degli altri setup che non so, usi un super trend oppure una media mobile, oppure dei canali come ho disegnato in questo caso qui, utilizzali. L'importante è che poi magari vai a fare solo entrate realsiste in questo caso, e non prendi in considerazione gli eventuali pattern ribassisti che ti dà la tua tecnica, nessuno lo vieta. Quindi vediamo adesso un po' quando non funziona, perché comunque ci sono stati un po' di stop. Ecco, ad esempio, su USDCAD oggi, ha preso due stop in sell. Allora, USDCAD, qui, Allora, l'incrocio c'è stato in realtà venerdì, però intorno, diciamo che il 60% di chi era a rialzo, si è avuto intorno a quest'area qui, verso le 18, ed era comunque un orario un po' tardi per entrare short. Vi dico che volevo farlo, ma non l'ho fatto, quindi anche qui vedete comunque sempre la discrezionalità, è comunque una parte sempre importante. Non sono entrato, perché comunque di venerdì di solito non c'è tutta quella liquidità. In realtà poi è andato a fare nuvi minimi. E che cosa ha fatto oggi con questo nuovo incrocio? Mi sono detto, magari attivo l'expert short, si va a rivedere i minimi, in realtà no. Quindi mi è andato a prendere gli stop, lo stop è dato dal minimo, quindi da quest'area, così parliamo anche un po' di stop. Quindi come viene calcolato il minimo? Lo stop, scusate. Allora, l'expert è entrato qui dove ci sono queste frecce rosse, si va a calcolare il massimo intraday, quindi il massimo assoluto intraday, diciamo relativo, il più corretto relativo della giornata, e a questo va ad aggiungere un range di volatilità. Io il range di volatilità lo vado a prendere da MATAF, quindi vediamo se ho il sito aperto. Allora, da MATAF. E quindi mi vado a vedere un po' tutto il range delle varie valute, quindi sul sito di MATAF lo trovate, USDCAD ha un range, lo vado a vedere però su 50 settimane, quindi un anno, più o meno. E quindi un range, diciamo, di 25 pips. Questa è l'escursione massima che fa, scusate, non sto vedendo, euro-dollaro, l'orario è anche un po' quello che è alle 9. I prossimi, vi dico, saranno alle 19.30, perché alle 21 è un orario un po' troppo tosto. Allora, su USDCAD la volatilità massima, quindi lo vedete durante l'ora di Wall Street, è di 31 pips. Quindi vado ad aggiungere al massimo questi 31 pips. Quindi da qui, dove è l'entrata, vado ad aggiungere questi 31 pips. In quest'area qui. E quindi poi esce. Allora, come si può avere l'expert indicatore? Questo ve lo dico dopo. Allora, su euro-dollaro le posizioni delle terze sono short per 83. Allora, euro-dollaro, visto che comunque euro-dollaro è entrato oggi. Allora, posizioni short, quindi l'expert oggi è entrato buy. Allora, ha provato tre entrate buy, sono state chiuse in pareggio, perché questo expert comunque ha la protezione in break-even. Quando si arriva al due volte l'ATR, a 100 periodi, lui vi mette a pari le operazioni. Quindi, ad esempio, che ne so, se decidete di entrare con tre, quattro operazioni, mettete quattro, l'expert comunque non vi fa esporre troppo, perché quando una guadagna due volte l'ATR, la mette subito a pari. Il rischio quale può essere in questi casi? Che se il prezzo non si muove, resta laterale in questa zona, e entrano quattro setup, ovviamente non fa in tempo a mettere in pari le posizioni. Però su un time frame a 15 minuti, come lo sto utilizzando io, sto vedendo che comunque fa massimo due, tre entrate, non di più. Quindi in questo caso, Roberto chiede, visto che sono 83% short, bisognerebbe andare long, sì. Però non sempre, cioè, non ha gli occhi chiusi, perché adesso ti faccio vedere una statistica importante. Però bisogna considerare questo, che quando noi vediamo questa percentuale, che comunque già è molto alta, dobbiamo anche chiederci, rispetto al primo incrocio, quindi per questo poi il primo incrocio diventa importante, quanto siamo in ritardo? Perché il primo incrocio c'è stato qui. Ok? Quindi il setup, diciamo, realzista, andava fatto in questa zona. Da qui a qui. Di quanto sei in ritardo? Perché comunque bisogna tenere sempre conto della volatilità dello strumento, perché lo sappiamo tutti che comunque su Forex, a maggior ragione, e le major, non salgono in linea retta in maniera verticale, quindi ci si può anche aspettare comunque un respiro o delle situazioni molto frenetiche e nervose. Quindi non è che se si vede l'83%, si entra così senza stop e non si lascia correre, no? Bisogna comunque avere sempre un piano dietro. E quindi sapere già che se io entro in questa zona, adesso è a pari, magari adesso comunque lo stop lo andrà a prendere quasi sicuramente in nottata, però comunque lo stop deve essere sempre messo in macchina, che vedete queste linee tratteggiate rosse, questi puntini, trattini, sono gli stop che l'expert aveva messo già in macchina. Da qui a qui sono 75 pip di ritardo, rispetto al primo ingresso pulito che si poteva fare. sempre comunque venerdì, che è stata una giornata particolarmente interessante. Ok, allora, chiaro a tutti un po' come funziona la tecnica dell'eccesso, del primo incrocio, così adesso passo sulla tecnica dell'eccesso, andiamo a vedere USDCHF. Sì, vediamo un po' USDCHF e poi vediamo se ci sono opportunità sulle major per questa settimana. Ok, quindi è chiaro. Allora, USDCHF è interessante, perché sicuramente vi dico, se avete seguito la chat, è da un po' di tempo che si parla di eccesso su USDCHF ed è stato preso abbastanza bene, perché, allora, vediamo se riesco a farvelo vedere meglio da qui. Allora, l'eccesso come funziona? Bisogna aspettare che questa percentuale qui arrivi al 90% o meno, quindi in questo caso avevamo oltre, avevamo il 94% delle posizioni su USDCHF e short. Quindi in questo caso, rispetto alla prima tecnica dell'incrocio, noi ci andiamo a posizionare a favore della massa, quindi se il 94% è short, noi iniziamo ad entrare short. Voi direte perché se la maggior parte perde, perché comunque bisogna tener conto che queste fasi di eccesso non possono durare in eterno. Quindi, se vedete, il primo incrocio c'è stato qui, su USDCHF. Quindi, il prezzo è salito in linea retta. Se arrivate in questa zona che è al 95%, quanti di voi si metterebbero long in quest'area qui? Dopo che il prezzo è già è salito tantissimo. Sicuramente in pochi, a meno che non abbiate dei setup, magari, che ne so, sul daily, sul weekly, però io credo che comunque anche in un'ottica intraday, dopo un rialzo del genere, si vadano a cercare delle situazioni estreme. Ma al di là poi della logica che comunque un trader possa avere o meno, statisticamente si riscontra che comunque queste fasi di eccesso del 95% poi vengono un po' riassorbite e il prezzo di solito concede un respiro dal prezzo primario. Non è detto che inverta V, quindi non è detto che da qui poi parta un ciclo ribassista. Assolutamente no. Queste situazioni vanno sempre monitorate, perché adesso siamo, vedete, siamo passati dal 95% al 71%. Quindi cosa significa? Che oltre il 20% di trader da qui si è spostato al long e noi ce ne accorgiamo anche dei prezzi medi di carico. Se andiamo a dare uno sguardo ai prezzi medi di carico, Eh, lo so, è un po' un po'... Non è semplice, però comunque è molto affascinante questo tipo di analisi, quindi io ve la continuo a proporre e poi fate le vostre valutazioni. Allora, vedete ad esempio il prezzo medio di carico di chi è long è 0.9946. Io avevo segnato la scorsa volta il prezzo medio di carico a 0.9961, quindi adesso è a 46. È in quest'area qui. Se riesco a prenderla bene. Sostanzialmente dopo lo stop appari. E quindi significa che la maggior parte dei trader è iniziata ad entrare long, perché se si appassa il prezzo medio di carico di chi è long, significa che sono entrati più contratti long. E lo vedete anche un po' dai lotti, che adesso sono 1.800, però questi lotti erano molto più bassi rispetto alle giornate precedenti. Il prezzo medio di carico di chi è short, in questo caso se appunto scende il prezzo, chi è short tende comunque ad allontanarsi dal prezzo. Infatti vedete che da 0.9888 il prezzo è sceso a 0.8949, quindi molto più giù rispetto al prezzo che avevo segnato l'altra volta. Diciamo in quest'area qui. E quindi su USDCHF si possono trovare delle situazioni estreme, quindi quando il prezzo medio di carico, allora, ve lo dico, cerco di essere molto diretto e concreto, allora, vedete che tutte queste frecce rosse sono tutte entrate short che l'expert ha tentato di fare. La maggior parte sono andate a finire stop a pari, quindi non ha perso. Le altre, se non sbaglio, qualcuna ha anche guadagnato. Vediamo un po'. USDCHF. Allora, quella del 22 ha guadagnato 25 pips, l'altra è stata chiusa a pari, poi ho fatto un altro tentativo, il 24 gennaio, che questa quindi è ancora aperta. Qual è questa qui? Dovrebbe essere USDCHF. Dove è USDCHF? Ok, esatto, questa è del 24 gennaio, che attualmente è in guadagno. Quindi in questa zona qui, del 90%, voi attivate l'expert in direzione short, però controllate sempre il prezzo medio di carico, perché non basta che sia al 90%. Quindi se il 90% è short, voi dovete guardare il prezzo medio di carico di chi è long. Se il prezzo medio di carico di chi è long è vicino al prezzo, come in questo caso, adesso è andato addirittura sotto, allora ci sono buone possibilità che il prezzo possa iniziare a respirare. non lo so spiegare da un punto di vista macro, sicuramente non stanno a guardare le tele, non sono loro che spostano il mercato, però c'è questo tipo di riscontro statistico e che ve l'ho fatto vedere anche l'altra volta. Guardatevi anche questo tipo, questa sezione del Community Outlook di MyFXbook, noterete che tutti i prezzi medio di carico sono sempre in perdita. Questo qui lo noterete sempre. Quindi capiterà molto raramente che un prezzo medio di carico sia in guadagno per un tot di tempo, o quantomeno per... non mi è mai capitato di vedere un prezzo medio di carico in guadagno da un mese oltre, proprio perché comunque la maggior parte dei trader tende molto ad andare contro trend e quando comunque c'è un guadagno chiude automaticamente, chiude subito il guadagno e quindi non lascia correre i profitti, le solite cose che sappiamo un po' tutti. Quindi questa cosa qui è molto interessante da studiare. Quindi su USDCHF stiamo vedendo comunque una fase di accesso. Questa forse è un po' più complicata rispetto all'altra che è molto più immediata, però anche questo tipo di tecnica merita comunque approfondimenti. Vi è chiara un po' questa situazione? Se avete domande comunque particolari fatemene poi. Vi rispondo. Quindi allora adesso facciamo una carrellata delle major, poi se volete controllare un cross in particolare, me lo dite così lo andiamo ad analizzare. Quindi allora, euro-dollaro adesso 83% per in ottica di primo incrocio, comunque il setup è rialzista. sulla sterlina io qui non mi pronuncio perché comunque se non sbaglio domani poi c'è il... no, il 30% se non sbaglio c'è comunque il discorso Brexit e quindi è meglio non entrare il giorno prima. USDCHF, quindi è iniziata una situazione di ribasso. Chi l'ha presa dal 90% è stato bravo. adesso bisognerebbe aspettare il primo incrocio per capire che tipo di posizionamento prendere. Poi USDCAD allora USDCAD adesso è incrociato nuovamente e siamo al 58% short. Se domani lo vedete al 60% short si può impostare la direzionalità short. Quindi come si fa? Direzione short due contratti vuoi aprire due sell e qui a posto del teschio che adesso è il filtro orario vedrete comparire due pallini rossi. Allora USDJPAD allora USDJPAD oggi è entrato short perché vedete il primo incrocio qui quindi l'ho impostato short sempre venerdì comunque è successo tutto oggi sono entrato in queste ho già approvato diverse entrate non tutte sono entrate a mercato perché l'expert poi se migliora il prezzo o meglio di carico ovviamente fa l'entrata migliorativa non è che lascia il pending senza poi andarlo a modificare quindi l'entrata comunque è stata fatta in quest'area qui oggi adesso è a pari molto vicino al prezzo attuale non so se appunto probabilmente si andrà a prendere lo stop a pari quindi ecco USD anche oggi e oggi ci sono state diverse situazioni interessanti comunque il setup rialzista sono entrate due buy in quest'area grazie comunque allo stop grazie per il momento comunque allo stop di volatilità non sono state prese ancora gli stop quindi vediamo se domani mantiene questo tipo di tendenza e poi il gemello NZD USD ecco NZD USD anche qui è incrociato ieri guardate quando c'è un rialzo guardate come le posizioni iniziano quella ve lo faccio vedere su Euro dollaro perché vabbè su NZD USD anche qui la stessa storia di AUD USD allora Euro dollaro è stato molto è stato incredibile Euro dollaro venerdì perché erano le posizioni erano long c'è stato questo incrocio e siamo arrivati intorno già qui eravamo intorno all'80% hanno iniziato ad entrare tutti i short su questa salita e quindi non so quale sia la logica che c'è dietro dove vedono salire e le entrano sciolte però io qui non so voi ma tecnicamente non c'è un ingresso sì questa è uscita dalle Boninger però non ho idea di perché si vada così contro trend anche perché come insegna il buon Larry Williams quando una giornata apre molto vicino all'open come in questo caso senza fare minimi e ve la trovate già qui è molto probabile che quella giornata sia rialzista non ribassista perché statisticamente se voi andate ad analizzarvi le giornate direzionali sono tutte così se voi vi prendete le giornate direzionali sono tutte così quasi tutte così quindi hanno l'ombra molto piccola significa che il prezzo ha fatto in questo caso rialzista l'open price è molto vicino ai minimi quindi in una giornata di venerdì se voi vi trovate lo so che orse non di poi può sembrare semplice però qui avete diversi alert che vi dicono di non entrare short perché vi trovate già in una giornata molto direzionale quindi non ha fatto sostanzialmente minimi una giornata entrano tutti short chiudete se non volete se volete entrare short aspettate un altro giorno aspettate il giorno dopo non entrate adesso quando il prezzo comunque sta formando questa barra rialzista ok allora adesso quindi un po' l'analisi che abbiamo fatta come avete visto non c'è su ausdi ausdi da domani da seguire nz di usdi e usdi dm sostanzialmente il resto usd cad non è anche usd cad quindi comunque la sterlina lasciatela stare euro dollaro comunque anche accesso ce ne sono usd cad usd dm audi usd nz usd quindi sono 4 su 7 tutti i cross che adesso non andiamo ad analizzare comunque una cosa che volevo anche dirvi è quella di magari non andarvi a prendere cross che sono poco liquidi cioè nel senso che comunque dal punto di vista di my scusate di my fx book non vi andate a prendere cross che hanno pochi lotti cioè andatevi a guardare sempre i lotti perché vedete che su euro dollaro ci sono 7500 lotti adesso solo long e 37000 in short quindi diciamo è una buona base statistica su cui ragionare se vi andate a prendere un cross tipo questo che ne so tipo sull'Italy 40 sono tutti short ma poi se andate a vedere chi è short c'è comunque il volume di 0,90 lotti ok quindi anche che ne so un Audi CHF comunque sono 230 lotti contro 662 non sono proprio tantissimi quindi ragionate sempre su un dovete vedere come se fosse un campione statistico però questo campione statistico deve avere una certa valenza perché già il mercato è over the counter quindi non è che ragioniamo sui numeri certificati quindi poi andiamo ad analizzare un piccolo campione se di questo piccolo campione andiamo a prendere proprio i piccoli volumi più esigui non abbiamo un reale vantaggio quindi io direi sempre di focalizzarsi solo sulle measure e poi l'ultima cosa che voglio farvi vedere è un po' lo studio dei retail dal punto di vista dei cicli perché prima c'era una domanda di adesso non mi ricordo il nome però mi chiedeva visto che comunque sono tutti short basta andare long e il gioco è fatto no perché io ho fatto ho iniziato a fare un po' da uno studio sui cicli retail allora che cos'è un ciclo retail molto semplicemente dal primo incrocio dal primo incrocio come in questo caso vedete in questa zona quindi dal primo incrocio dove i piccoli speculatori chiamiamoli piccoli speculatori da oggi in poi mi devo imparare a chiamarli piccoli speculatori quando entrano long quindi in questo caso vedete da myfxbook c'è questa tendenza verde quindi dal primo incrocio delle posizioni fino alla loro chiusura semplicemente questo è un ciclo abbiamo avuto sempre parlando di euro dollaro la chiusura proprio di un ciclo in questi giorni quindi un ciclo rialzista quindi voi dovete andare a ribasso perché qui si fa sempre il contrario quindi vedete è iniziato in questa zona e si è chiuso qui questo è il ribasso che ha dato allora adesso io la domanda che mi sono fatto ok in retail la maggior parte dei piccoli speculatori perde sul mercato ma statisticamente quante volte mi dà ragione fare il contrario cioè ho realmente un vantaggio a lavorare questo tipo di situazione cioè quando c'è questo incrocio di quanti pips crolla euro dollaro perché ovviamente io devo avere siccome l'incrocio ok lo vediamo qui però se devo dare una certa diciamo un certo margine non posso entrare proprio sull'incrocio perché come avete visto se è stato utilizzando questo indicatore avrete sicuramente visto questi incroci molte volte anche all'interno dello stesso giorno quindi non si può fare un continuo stop e reverse perché anche se poi c'è un vantaggio lo si perde continuando a stopparsi e fare continui stop e reverse quindi se si aspetta il 60% magari il prezzo già scende come può essere in questo caso e quindi già siete in ritardo rispetto al primo incrocio poi quindi la domanda che da un milione di dollari è ok ma dopo io comunque ho la possibilità ancora di guadagnare da questo tipo di statistica e allora in questo caso quindi si fanno degli studi che sono molto molto comunque pesanti da fare perché vi dovete mettere lì e andarvi a vedere tutti vedete da qui per fortuna c'è molto storico su MyFxbook sul sito dal sito internet quindi vi dovete bisogna fare comunque degli studi statistici e analizzare ogni singolo incrocio per vedere se dall'apertura in questo caso del primo incrocio quindi mettiamo in questo caso questa zona qui dall'apertura fino alla chiusura c'è stato effettivamente un vantaggio quindi un po' fatto questo ho iniziato a fare questo tipo di statistica e attualmente l'ho fatto solo sul 2018 e questi dati li ho regruppati un po' nella slide che adesso vi faccio vedere e che cosa è venuto fuori allora ci sono stati 19 cicli dei piccoli speculatori cioè significa che questo questo dato qui di incrocio ci sono stati 19 incroci durante tutto il 2018 gestibili nel senso che comunque almeno del 60% quindi questi 19 incroci la media del ciclo la durata dei giorni del ciclo retele di 15 giorni quindi mediamente un come in questo caso un ribasso può durare in media 15 giorni quindi cosa significa dal punto di vista statistico come si può trarre un vantaggio da questo è che se io mi trovo già in una situazione dove arrivo in ritardo al decimo giorno vedo che le posizioni sono 85% da una parte il decimo giorno so che mediamente dura 15 giorni non mi vado a mettere in tendenza quindi non vado a giocare contro la maggior parte dei retele ma o resto flat oppure vado a cercarmi una situazione di eccesso analizzando i prezzi medi di carico il miglior ciclo retele che si è avuto nel 2018 è stato di 385 pips quindi io come ne ho calcolato in maniera oggettiva dal primo incrocio mi sono andato a prendere l'apertura della candela daily quindi l'apertura della candela daily corrispondeva con il primo incrocio quindi il minimo del 60% e poi mi sono andato a prendere la chiusura della candela daily di fine ciclo se c'è stato un ribasso poderoso dall'apertura alla chiusura di tutto il ciclo ovviamente c'erano molte più possibilità di poter guadagnare quindi il miglior ciclo è stato di 385 pips il peggiore mentre è stato di 192 pips quindi significa che non ha funzionato quindi in quel caso se foste entrati ciecamente solo perché la maggior parte di 3 del retail perde avreste perso quei 192 pips ovviamente entrando sull'apertura e uscendo sulla chiusura la media dei lotti è stato di 7076 lotti long contro i 7086 questo è un buon dato perché mi mi fa capire che comunque c'è una c'è comunque una statistica che non cambia sostanzialmente sono quelli gli operatori diciamo come se fosse un bacino di utenza che ci dà MyFXbook su euro dollaro e quindi è un buon dato perché se che ne sono nel 2019 questa media dovesse scendere a che ne so a 4.000 significa che un 3.000 lotti viene a mancare quindi c'è meno interesse su euro dollaro quindi questo poi sarà anche adesso che faccio poi gli altri studi andare a capire come nel tempo è passato l'interesse di euro dollaro se è calato oppure comunque aumentato nel corso degli anni qui ho le statistiche su MyFXbook dal 2015 quindi diciamo che si può fare un buono studio il maggiore eccesso si è avuto il 15 novembre del 2018 con un 92% delle posizioni non ricordo se è short o long però possiamo vedere è qui questa zona qui a novembre c'erano 46.000 contratti long contro i 3.000 e 800 contratti short quindi un eccesso che si poteva lavorare in questo caso long proprio per il discorso che vi ho fatto prima quindi anche questa statistica può essere interessante mi va a confermare un po' quelle che erano le mie intuizioni sulle percentuali di eccesso e poi il numero di cicli ribassisti è stato di 9 e il numero di cicli ribassisti 10 quindi 19 ovviamente diviso in questo sostanzialmente un 50 e 50 e poi l'equity mi sono andato a fare un equity l'equity che cosa mi dice in questo caso è come se io fosse entrato ciecamente sul senza alcun filtro quindi non come in questo caso che aspetto che ne so che entri l'expert ma semplicemente dalla cortura alla chiusura quindi per ogni ciclo se facendo continuamente questa cosa mi portavo un vantaggio e sostanzialmente per la prima parte dell'anno del 2018 c'è stato questo vantaggio poi quando ho iniziato a fare un po' di laterale euro-dollaro ovviamente se l'è rimangiato e attualmente sui forse file excel si vede meglio diciamo sui 248 pips vedete anche qui come come un po' per tutto dipende sempre anche da quando entriamo effettivamente a mercato quindi anche diciamo il timing e l'ingresso è importante perché una cosa è iniziare a entrare a fare questo studio dall'inizio anno perché all'inizio dell'anno vedete i primi mesi da gennaio fino a giugno che vedete questa è la data del giugno l'equity era arrivata a 686 pips poi tutta la fase è quella e che questo sarà interessante anche poi continuare con gli studi negli altri anni e vedere se effettivamente durante l'estate che c'è poca volatilità c'è quella volatilità che io chiamo cattiva dove si fanno quegli spike maledetti che ti vanno a prendere gli stop si allargono gli spread poi voi chiamate il broker incazzati neri perché pensate che il broker vi vada a giocare contro ma in realtà lì non c'è liquidità e quindi andiamo a chiudere ai primi prezzi disponibili e vedete che effettivamente però da luglio agosto il sistema ha perso ha perso 560 pips quindi continuando a fare entra ed esci seguendo i vari cicli sarebbe un po' perso quindi conta anche poi ovviamente il timing questa situazione di su euro dollaro è durata un po' tutta fino anche a settembre quindi in questo caso in perdita vedete infatti anche l'equity come è scesa per poi recuperare per poi recuperare verso il finale Pietro mi chiede che quindi siamo in un ciclo rialzista sì esatto Pietro perché rialzista per noi ribassista per quindi sempre il contrario e adesso bisogna capire quanto durerà questo questo rialzo quindi vedete diciamo che è partita da qui il 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 ciclo rialzista quindi ha fatto 90 pips dal dall'inizio e volevo dire un'altra cosa non mi sono dimenticato e quindi il 2018 è comunque stato un anno ecco un anno comunque particolare anche per non so se avete visto le statistiche di chi utilizza gli expert ma anche i più grossi speculatori gli hedge fund hanno comunque perso quindi è stato un anno difficile con i retail in questo caso non si sarebbe perso ma sicuramente non i guadagni del 2017 perché ancora non ho le statistiche del 2017 ma il 2017 è stato un anno molto proficuo da questo punto di vista della strategia ok siamo arrivati quasi un'ora io quindi sono stanchissimo e vi do appuntamento al prossimo allora dal prossimo iniziamo a parlare del sistema antigriglia applicato solo su euro dollaro quindi facciamo uno studio molto accurato su questo tipo di sistema perché questo sistema nasce proprio sempre dall'analisi retail e va a vedere anche altri aspetti quindi andiamo a analizzare punto per punto rispondo alla domanda di Valeria non so se è ancora in linea in cui mi chiedeva come avere l'expert allora l'expert è sempre gratuito quindi per questo ringrazio Salvatore che per motivi familiari questa sera non c'è quindi lo saluto e basta che venite nella chat di Telegram e vi discaricate l'expert questo l'expert parlo del diciamo del sistema anti grid per farvi capire questo è l'expert questo è l'expert questo invece è l'oscillatore che lo trovate su MyFXbook quindi il famoso sito ve lo scaricate e quindi bisogna poi seguire i passaggi che vi ho fatto vedere anche nei precedenti webinar va bene allora grazie a tutti per aver visto questo webinar e vi do appuntamento al prossimo non so ancora la data ma comunque poi verrete informati sulla chat o via web grazie a tutti grazie a tutti